ciao a tutti oggi vi presento delle forbici professionali prodotto 100% made in italy e in particolare queste sono adatte per le unghie incarnite vedete che hanno una punta molto fine detta lancia queste in particolare che stiamo vedendo sono in acciaio inox satinato qui vediamo di preciso come si aprono questa misura è di 9 centimetri ed è utilizzata per le mani mentre quest'altra che vedete adesso è un po più grande 10 centimetri e mezzo ed è più adatta per le unghie dei piedi unghie molto robuste tutta questa serie è acciaio inox satinato se vi interessano ulteriori dettagli potete trovarle su elettronicadidattica.com ora passiamo alla serie in acciaio nichelato con finitura lucida anche qui vediamo il modello da 9 cm per le unghie delle mani tutte queste forbici sono marchiate pre mana quindi alta qualità della valsassina in provincia di lecco sono tutte forbici lavorate a mano una una hanno un taglio preciso perfetto sempre affilate ecco qui vediamo il modello un po più grande da 10 centimetri e mezzo per le unghie dei piedi quelle un po più robuste grazie a tutti per l'attenzione vi aspettiamo per il nostro prossimo video se questi prodotti sono di vostro interesse potete trovarli su elettronicadidattica.com arrivederci ciao a tutti